Oggi impariamo a fare dei bellissimi fiori di carta Tagliate delle strisce di carta crespa larghe quanto il diametro del fiore che vorrete andare a fare Per aiutarvi a disegnare il cerchio potete usare un bicchiere Una volta definito il diametro del cerchio tagliate 8 pezzi di carta crespa Tagliate 4 pezzi e ritagliate la sagoma del cerchio Ripetete un'altra volta in modo tale da ottenere 8 cerchi Tagliate delle strowi iniziate a lavorare ogni cerchio con le mani in modo tale da dare una forma arrotontata fate attenzione a non strappare la carta posizionate i petali uno sopra l'altro con la forbice fate un foro al centro dei cerchi prendete dello spago o del filo che vi piace e tagliate in un pezzetto infilate lo spago nel foro che avete appena fatto con le forbici e fate due nodi alle due estremità, davanti e dietro sistemate ogni cerchio in modo tale da dare la forma al fiore ed ecco fatto grazie a tutti Grazie a tutti.